Sardegna, territorio di Monastir, troviamo un'antica sorgente d'acqua, il cui nome, secondo agli abitanti della zona, è Samizza, quindi la fonte de su governo, la fonte del governo. Andiamo a scoprire per quale motivo. Nei primi decenni del ventesimo secolo nacque ai piedi di una collina che ospita un interessante castello, la fontana del governo. Ed eccoli lassù sul cocuzzolo della collina e resti del castello e qua sotto l'accesso alla fontana sotterranea scavata nella roccia che con il suo troppo pieno riversava l'acqua all'interno di questa canalizzazione per poi raggiungere là in lontananza la parte a valle del castello.